buongiorno a tutte voi direte che cosa di particolare questa lavorazione questa non è altro che la lavorazione del filet la rete vuota chi come me lavora il filet sa quanto è odioso dovete iniziare un lavoro perché la cosa più antipatica è stare lì a calcolare quando devono essere le catenelle d'inizio questa rete invece io l'ho iniziata direttamente con il sistema degli aumenti senza lavorare la catenella di base il nostro lavoro inizia con una riga con una riga vuota procediamo in questo modo faccio il mio cappietto di inizio il lavoro 7 catenelle 4 5 6 e 7 e chiudo con una maglia alta il mio primo quadratino nella prima catenella che ho lavorato adesso in poi lavoreremo 2 ma 2 catenelle e una maglia alta tripla che andremo a chiudere alla base della maglia alta lavorata in precedenza carico delle volte il filo punto l'uncinetto alla base della mia maglia alta che ho lavorato in precedenza e chiudo 1 2 e 3 le maglie successive le andremo a chiudere puntando l'uncinetto nel secondo gettato della maglia precedente 2 catenelle carico tre volte il filo e punto l'uncinetto nel secondo gettato di chiusura estraigo il filo e chiudo questo filo poi lo andremo ad affrancare non devo a nascondere non è un problema e la lavorazione in questo modo è identica alla lavorazione classica fatta con la base di catenelle e il primo giro lavorato normalmente vi faccio rivedere 2 catenelle carico tre volte il filo e punto l'uncinetto qui nella seconda chiusura della maglia precedente 1 e 3 punto l'uncinetto nella seconda chiusura perché la prima mi serve per dare spazio al quadratino 2 catenelle carico tre volte il filo punto l'uncinetto nella seconda chiusura della maglia precedente questo è un altro lavoro che ho iniziato da poco e prevedeva una riga vuota d'inizio di circa 250 quadratini e io come al solito non ho fatto la catenella di base ma l'ho iniziato direttamente con il mio sistema degli aumenti vi lascio nella info box il link dell'altro video in cui vi spiego come iniziare invece una riga tutta a maglie alte